come mi chiamo col cazzo che te lo dico e dove viviamo Roma uso il noi perché noi siamo due trattino quattro e non ti posso dire perché il nome Querti viene dalla tastiera Querti per avere la libertà nell'arte sono quasi trent'anni che devo fare un altro lavoro sia io che l'altra parte di Querti al 2014 dovevamo decidere se attaccare i pennelli al chiodo oppure continuare a esistere come artisti la street art ci ha dato la possibilità di continuare a esistere perché il mondo delle gallerie non era fatto per noi il trattino finito dove una parte dell'essere umano è protesa tra azzurro e stelle e quella diciamo lungimirando è la proiezione di questa specie che è proiettata verso un altro pianeta o altri pianeti ancora grazie per la visione Grazie a tutti